Buon pomeriggio a tutti, vasto pubblico. Gli altri stanno fuori che sono un po' timidi. In questa sessione l'idea è di fare due cose. Una è di fare un po' di marketing del rapporto sulla conoscenza o ce ne fosse bisogno. L'altra è quella di discutere sui temi che nel rapporto sono trattati ma di misurazione della conoscenza. Non vi racconto quella che è stata la genesi del rapporto perché è stata un'idea in comune tra me e Giovanni Barbieri sulla quale per un annetto avevamo discusso per fare qualcos'altro. Volevamo parlare di scienze e tecnologie e ci diciamo che la reportistica dell'Istat su questo ogni anno è lo stesso rapporto, bisognerebbe metterli insieme, almeno due, eccetera, eccetera. In realtà avevamo un'idea condivisa e siamo capitati nel momento giusto in cui lo stesso presidente voleva fare prodotti di integrazione e piano piano è venuta montandosi come un soufflé questa cosa per cui era nata con ambizioni più ridotte ed è diventata una maledizione tipo maledizione di Montezuma per cui ha significato passare il giorno di Natale a lavorare, il primo dell'anno, eccetera, eccetera perché si è gonfiata e è diventata una cosa più ad ampio raggio e questo per quanto riguarda la genesi quindi alla fine diciamo che è un prodotto che realmente in maniera non so quanto compiuta, questo lo diranno i nostri colleghi relatori che sono stati tanto gentili da sciropparsi il rapporto e dire, diciamo, da parte mia come organizzatore della sessione quello che ho chiesto è vedete se c'è una cosa che ci avete trovato che vi ha stupito che è una cosa bella del rapporto e una cosa che invece avremmo dovuto fare e non abbiamo fatto certo non può rappresentare tutto lo scibile è una soluzione finitima per un problema infinito che è quello del misurare tanto cosa fosse la conoscenza dopo mesi di gestazione c'è il sapere utile e l'abbiamo declinato in tante salse in realtà ecco, diciamo che alla fine è un prodotto che ha diverse novità non solo in termini di pubblicazioni dell'Istat ma di mettere insieme in una maniera coerente giusta apposta tra loro su un unico tema una quantità di fonti e trattare in maniera integrata anche diversi ambiti tematici diciamo volendo dire in simboli come si può rappresentare il rapporto sono state buttate grazie ai mezzi di cui abbiamo la dotazione con il numero di inventario dell'Istat nel tritacarne una quantità di dimensioni di studio e di tipologie di fonti diverse per realizzare un prodotto che abbraccia tanti aspetti io lì, diciamo, questa è una slide che ho fatto ieri sera e mi è venuto in mente il tritacarne e il frullatore come due cose che in qualche maniera caratterizzavano lo sforzo fatto per realizzare il rapporto ho buttato giù le dimensioni e ce ne sono altre ne ho sicuramente scordato qualcuna e come è fatto il rapporto per quelli che non l'hanno mai visto ha avuto un approccio modulare dei raccontini, dei quadretti 38 quadri più un capitolo di introduzione e in ogni quadro abbiamo un quadro fatto di due pagine una di testo una di grafici che accompagnano il testo e sempre si trova la dimensione principale trattata posizionando usando il posizionamento dell'Italia verso il resto dei paesi europei nel tempo e poi andando a spacchettare questo fenomeno per territorio per caratteristiche degli individui delle imprese a seconda dell'argomento trattato per quella che in quella dimensione appare usando i dati l'aspetto più rilevante per capire cosa c'è sotto ed eventualmente anche combinando più dimensioni ora il rapporto è articolato in quattro capitoli tematici che hanno una sequenza logica cioè dalla creazione di conoscenza alla trasmissione all'uso e fino ai fattori che sono dietro la diffusione della conoscenza o che possono rappresentare un ambito problematico per le politiche diciamo un capitolo che mette insieme domande e offerta e poi c'è un capitolo che ho messo lì in giallo che è diverso cioè che è un capitolo di analisi vera e propria su un tema e ora vedremo sull'istruzione delle imprese quali sono gli aspetti di innovazione principali in termini proprio di prodotto beh a parte il fatto di usare in maniera estensiva i rimandi tra questi quadri per cui uno può avere dei percorsi che gli nascono dalla curiosità su una cosa e ti rimanda ad un'altra cosa ad un'altra ancora ad un'altra ancora diciamo quindi un uso dell'ipertestualità tra quadri di rimandi come quando uno legge Wikipedia poi il fatto di avere per la prima volta introdotto in Istat la possibilità di accedere immediatamente a tutti i dati sottostanti il rapporto sottostanti le figure con anche dei dati complementari introducendo questo sistema dei DOI un link ipertestuale che ti rimanda se uno ci clicca ti si apre un file Excel con tutti i dati sotto e richiamare immediatamente le metodologie le fonti per una produzione di istituto di statistica diciamo ma io sono interessato all'istruzione cioè sotto c'hai il manuale ISCED se sei interessato alle professioni c'è il link all'ultima edizione del disco quindi c'è un'accessibilità immediata anche alle fonti di approfondimento normative che ti raccontano come articolato alle classificazioni eccetera dopodiché c'è uno standard narrativo rigido appunto di queste due paginette una grafica anche un po' troppo complicata per compattare le cose e i colori una cosa colorata faccio vedere l'esempio di una scheda tipo questo è su gli investimenti in sviluppo delle imprese come vedete c'è un paragrafetto che dice ma perché mi devo occupare di questo che valore c'ha dopodiché ogni paragrafo corrisponde è appoggiato sulle informazioni che sono nei grafici c'è questa sezione di approfondimento i collegamenti con altri quadri sempre il confronto internazionale lo spacchettamento in alcuni casi la combinazione tra più dimensioni e i dati questi sono i link ipertestuali di cui vi parlavo e doi che abbiamo utilizzato adesso anche nel rapporto annuale quindi tutti i grafici del rapporto annuale hanno sotto i dati direttamente accessibili è diciamo una politica di accessibilità che abbiamo introdotto con il rapporto sulla conoscenza beh di risultati non ne vorrei non avrei voluto proprio parlare in realtà immaginando di lasciare completamente il terreno ai relatori che avrebbero sbucciato tematicamente perché ora ve lo racconto cosa faranno loro e però vi dico un'unica cosa vi faccio vedere due figurine perché non ho resistito alla fine di ieri sera perché erano metatematiche in fondo quando almeno personalmente mi sono messo all'opera l'Italia non è forte sulla conoscenza quella dura i laureati la scienza e tecnologie però ce la caviamo uguale la verità è che diciamo la crisi economica ha mostrato quanto questo mito dello stellone d'Italia del tenersi a galla comunque non funzioni più insomma e d'altra parte quello che era una cosa marginale perché era nato appunto con le statistiche su scienza e tecnologia quindi sull'innovazione l'uso delle ICT la ricerca e sviluppo eccetera eccetera più legata al mondo delle imprese l'istruzione che è una cosa che in Istat aveva relativamente poca visibilità in termini di produzione regolare di statistiche eccetera ha tolte le tavole di dati è entrata un po' di soppiatto e alla fine è diventata veramente non perché sia stato fatto un enorme lavoro sull'istruzione ma perché andando a guardare cosa governasse i comportamenti degli individui delle imprese eccetera tornava sempre a galla questo cioè il fatto che è quello il grande discrimine che cambia i comportamenti che cambia il modo l'approccio la capacità di guardare la complessità e in verità emerge un mondo abbastanza emerge che siamo un paese sostanzialmente izoticoni però detto questo emerge anche una discreta diversificazione delle cose con aspetti che non ci sono solo ombre dentro questo discorso non siamo benché siamo spesso nel dato aggregato in fondo a destra in questa classifica siamo il 25esimo su 28 il 32esimo su 29 cioè meno male che esiste alle volte la Grecia alle volte la Bulgaria dobbiamo difare perché entri qualcuno che si è messo peggio eccetera in verità quando si va a guardare dentro il dato non è che ci si consoli ma si vedono alle volte si vede un movimento verso l'alto alle volte si vede che dietro il dato aggregato spesso ci sono aspetti di misurazione che fanno sì che non siamo messi così male insomma la situazione è più articolata di questo detto questo avrei quasi finito attenzione il monitor si sta per spegnere qui però bisogna che agitiate il mouse vi faccio vedere l'unica cosa che è quella microfondata che tra l'altro è stata è stata anche un po' già utilizzata stesso in conferenza ieri da Fabio Rapiti diciamo è una cosa che è andata per la maggiore ma che è fuori dallo schema di questo racconto a quadretti ed è un discorso più complesso cioè al di là della rappresentazione puramente statistica questo è un racconto che mette insieme diverse di molte fonti e che è la valorizzazione per la prima volta anche del patrimonio informativo che l'Istat sta costruendo in termini di registri di archivi cioè noi adesso siamo stati in grado di fare un'analisi sull'intero universo delle piccole l'importante è che funzioni questo delle piccole e delle micro imprese dell'industria e dei servizi di mercato cioè 700.000 aziende considerando i titoli di studio sia dei dipendenti che degli indipendenti che abbiamo assimilato agli imprenditori per cui ponendoci 4.600.000 persone di cui abbiamo i record individuali che possiamo collegare con l'informazione sull'impresa in cui lavorano tra i codici fiscali e i quesiti diciamo la prima curiosità era questa dice ma un'impresa che fa Calzini che opera nella provincia di Firenze che ha 10 addetti rido perché ho fatto credo questo esempio a Gianni e ha un titolare laureato si comporta diversamente dalla stessa impresa sempre nella provincia di Firenze che ha 10 addetti e che ha un titolare con la terza media in termini di selezione degli addetti viene fuori un'associazione molto forte diversa tra i settori diversa tra le imprese eccetera però che a ogni anno di scolarità in più del titolare dell'indipendente in media corrisponde un mese virgola 3 per l'insieme dei dipendenti per cui se ho 10 dipendenti sono 10 volte un mese virgola 3 di scolarità in più per ogni anno per cui se io ho la laurea mi fanno 9 anni in più di uno che ha la terza media vuol dire che io farò i calzini però ho uno che vende i calzini nei negozi o che mi ridisegna quindi ho un'impresa che è diversa da quella di chi fa calzini con la terza media questa era una cosa abbastanza immaginabile però l'abbiamo misurato l'abbiamo visto per settore abbiamo visto la variabilità quanto ne spiego qual è l'effetto e questo è come in realtà l'abbiamo misurato quindi abbiamo per 670 attività economiche diverse qui sono per rappresentazione semplicemente sono rappresentate a livello di due cifre a teco però detto questo ma le imprese più istruite tra virgolette come si è soccavata durante la crisi cioè hanno avuto una performance migliore sono sopravvissi la prima cosa a primum vivere sono campate io su questo personalmente non sapevo quale sarebbe stata la risposta quando abbiamo messo i dati nella macchina mi immaginavo che forse durante la crisi sarebbero sopravvissute chissà meglio più carsicamente quelle col titolare con la terza media piuttosto che quelle col titolare con la laurea invece no ogni anno di istruzione in più del titolare un 5% di probabilità in più di sopravvivere tra il 2011 e il 2015 sempre controllando per il settore di attività fine per la provincia per il numero di addetti per l'età dell'impresa dell'imprenditore eccetera e in realtà vediamo lì vedete l'impatto del ruolo dell'imprenditore in verde quello in diretto attraverso la selezione del personale in verde un po' più scuro è quello dei dipendenti in realtà ecco sulla sopravvivenza 8% per ogni anno in più eccetera eccetera quello che emerge più che la differenza di produttività anche che è una cosa più aleatoria emerge e che anche benché significativo è modesto come impatto non entro nell'econometria della questione però si osserva anche una cosa ovvia che vuol dire che hai del personale più qualificato quindi che ti costa di più quindi hai un impiegato anziché un operaio inquadrato diversamente ma che a parità di titolo di studio e di inquadramento il fatto che l'imprenditore sia più istruito dà una premialità nel salario quindi probabilmente ha selezionato anche a parità di titolo di studio qualcuno e comunque paga di più da si rende migliori quindi c'è anche questo cote che possiamo immaginare di imprenditoria illuminata perché puramente è una fantasia insomma quella striscetta verde sull'ultima cosa e vado veloce nell'ultima slide e dice vabbè facciamo un passo in più andiamo ad agganciare con i dati di indagine sull'uso delle tecnologie informatiche da parte delle imprese l'indagine su commercio elettronico e l'indagine sull'innovazione ora l'istat abbiamo avuto anche un po' di fortuna perché l'istat nel 2011 invece di fare il censimento tradizionale ha fatto in realtà una multiscopo su 250.000 imprese e chiedendogli un po' di tutto tra cui anche le domande base sull'attività innovativa 250.000 imprese sono quelle che mandano avanti il paese cioè ce ne abbiamo 4 milioni e 6 ma comprendono il bar qualsiasi attività economica il 90% del valore aggiunto sta lì dentro per cui a queste imprese sono stati posti anche i quesiti che sono quelli di base per l'attività innovativa in particolare quella che funziona la cosiddetta innovazione combinata questo Giorgio mi potrà smentire tra poco e cioè il fatto che si faccia innovazione di prodotto processo insieme a organizzativa di marketing normalmente diciamo in letteratura è quella che fa produttività che fa valore aggiunto e fa soldi e lì si osserva l'impatto dell'istruzione che è addirittura un anno di scolarità un 20% in più di probabilità su 250.000 imprese stessa cosa a livello invece però solo di l'uso di quella che è la tecnologia cardine in termini di organizzazione di impresa cioè quella che è segnata lì come IRP cioè è l'uso di software per la gestione dei flussi informativi all'interno dell'azienda normalmente è quella che discrimina e anche lì abbiamo nel complesso un 30% per ogni anno di scolarità sono risultati grossi diciamo in termini quantitativi da validare da contestare econometricamente però per il momento diciamo questo è quanto a questo punto io avrei finito la mia parte di lavoro però adesso abbiamo la palestra d'ardimento i nostri amici qui accanto faranno hanno ognuno una missione cioè per ambito tematico ve li presento Giorgio Sirilli dirigente di ricerca associato del CNR ma diciamo iniziatore delle indagini sull'innovazione in Italia e anche del manuale di Oslo sull'innovazione e che coprirà la parte imprese innovazione ricerca e sviluppo e così via Gianni Finocchietti che ha curato dall'inizio il rapporto Euro Student oltre che Erasmus in Italia e che coprirà ognuno di voi ovviamente può raccontare quello che vuole può anche invadere il campo degli altri anzi questo è gradito che invece ci farà le bucce sul lato dell'istruzione e ci porterà invece contributi aggiuntivi anche rispetto a quanto c'è nel rapporto dopodiché abbiamo Antonio Lampis direttore generale dei musei d'Italia che sotto le mentite spoglie di Annalisa Cicerchia perché ci piace di più così e dopodiché abbiamo che ci parlerà del lato cultura dentro il rapporto e poi l'area Silvestri della regione Friuli Venezia Giulia che ci verrà a dire quello che non va in noi perché nella regione poi è uno dei pochi casi in cui realmente si utilizzano le informazioni quantitative per definire le politiche per cui coprirà insieme gli aspetti di natura territoriale e di policy e poi ci racconterà anche un pochino di quello che si fa in termini di collaborazione statistica tra regione e istat proprio per migliorare la qualità dell'informazione fino a livello territoriale chi viene prima più duro io cedo il posto grazie si spinge qua dunque buonasera e Andrea diceva che ciascuno di noi ha una certa libertà quindi e devo dire che io ho un po' tradito il mandato che mi aveva dato Andrea glielo ho fatto apposta naturalmente però uno tradisce ma insomma poi lo punisce in questo modo però ho cambiato un po' le carte in tavola ieri sera anche Andrea ha cambiato la presentazione oppure ieri sera ho cambiato la presentazione perché noi siamo in una conferenza quindi la conferenza è un momento di interazione è un momento in cui uno si interroga su determinate cose quindi adesso vi dirò alcune cose di tipo molto generale che hanno a che fare con il mondo con il futuro con l'Istat un po' tutti per fare una riflessione un po' ampia su questi argomenti partendo naturalmente dal rapporto che ha così brillantemente illustrato Andrea allora quindi ci ho messo un titolo un'occasione per ripensare il lavoro degli statistici quindi è un po' impegnativo dunque si spinge dove si spinge quello qua dove si spinge quello lì dunque allora vi dirò metto in piedi così è un po' più con allora io volevo parlare la statistica e l'Istat guardate che piccolo argomento alcune considerazioni sul rapporto questo era necessario ma quasi quasi una scusa e poi gli statistici e gli utilizzatori quindi ben due mani allora divertiamoci un po' la cosa ci ha detto all'inizio l'incertezza e il dubbio sono il punto di partenza per l'avanzamento delle conoscenze e della ricerca e l'avanzamento delle conoscenze non uccide la meraviglia e il mistero dico qua siamo in un in un ambiente lo statistico pensa a fare tabelline queste cose qua no no parliamo di meraviglia e di mistero e un prodotto quindi di cui parliamo noi è questo qua no? è che è un prodotto della ricerca dell'Istat infatti se voi guardate la parte bassa della copertina vedete temi letture statistiche quindi stiamo certamente nell'ambito della ricerca vera e propria no? dell'Istat e nell'introduzione di questo eccellente rapporto io dico eccellente perché veramente ci credo a un certo punto dice il contesto culturale la singolare immagine riportata sulla copertina realizza per festeggiare i 550 anni dell'università di Lovagna simboleggia al tempo stesso l'immergersi nel sapere nella ricerca della felicità addirittura parliamo qua di felicità poi dopo ci sono tutte tabelle analisi eccetera però c'è questa forma di collegamento addirittura c'è una formula di felicità che è stata riportata e addirittura c'è questi numeri pure c'è stato spiegato il significato esoterico di questi numeri ci divertiamo no? prego c'è il 42 questo ce l'hanno spiegato non me lo ricordo più però non fa niente insomma poi dopo richiediamo Andrea allora se posso fare una cosa che non si quelle cose che non si fanno normalmente no? visti i rapporti così la faccio una piccola autocitazione perché qualche tempo fa avevo scritto un articolo che è intitolato così l'ISTAT da fabbrica di tabelle a think tank poiché ho avuto il piacere e l'onore di lavorare con l'ISTAT per un periodo molto lungo e l'ho visto trasformarsi oggi non è banale che noi ci troviamo in questa conferenza con tutte queste idee tutti questi ricercatori dell'ISTAT che rappresentano un sapere enorme e in questo in questo articolo poi dico guardate appunto ci sono voluti più di 30 anni ma da quando l'ISTAT chi è più anziano come me ricorderai i tempi di Demeo che era si producevano statistiche adesso è un posto dove si fa ricerca e questo passaggio di paradigma è stata una cosa abbastanza complicata e difficile ora la struttura ce l'ha fatta già vedere del rapporto c'è la prima parte descrittiva e le dati e quindi abbiamo i grafici di riferimento questo già ce l'ha detto Andrea e quindi questo è l'altro punto che io credo che sia forse chi sfoglia questo rapporto nelle prime parti i primi 4 5 capitoli ha sostanzialmente delle descrizioni ma questo è il salto di qualità ed è un salto di qualità per chi analizza la società in particolare l'economia formidabile perché qua l'istante ci viene a dire questo rapporto 1 1,3 che ha un valore un sapore di analisi estremamente importante secondo me questo è il punto se volete più alto il punto di ricerca che caratterizza questa pubblicazione ora io non vi tedierò sul discorso mi occupo un pochino più di ricerca di innovazione di questi aspetti però tutto sommato grandi osservazioni o critiche eccetera non ce ne ho da fare io ho fatto qualche piccola considerazione sulla presentazione sul linguaggio visivo che è stato utilizzato in questo rapporto allora vedete per esempio una variabile tipo questa qua spese per personale e poi addirittura c'è qualche grafico un pochino bislacco non è tanto facile da capire il paese sta un anno avanti un anno indietro insomma comincia una certa complessità nell'interpretare nel decodificare un'immagine che dovrebbe essere una cosa immediata e poi abbiamo questa parte qua quota totale della scala destra qui le scale che si dividono lineare logaritmi ecco qua il poveraccio voglio dire si si incasina un pochino no questo qua insomma questa è una cosa proprio da iniziati perché allora ci sono le barre il triangolino eccetera ecco questo direi che è una critica che peraltro già insomma ne avevamo un po' parlato perché chiaramente questo è un linguaggio che non aiuta moltissimo l'utilizzatore naturalmente l'utilizzatore è un qualcuno che deve e dovrebbe avere delle conoscenze ma che a cui va però dato anche uno strumento e in questo caso forse si è un pochino esagerato nella complessità del numero di la quantità di informazioni sullo stesso grafico il rapporto sulla conoscenza io quindi do un giudizio veloce insomma secondo me è un ottimo prodotto di ricerca proprio di ricerca che ha una parte più descrittiva una parte che naturalmente porta illustra tutti questi dati molto aggiornati molto approfonditi che coprono tutto quello che si può coprire in questa definizione che non abbiamo comunque di conoscenza è un prodotto per iniziati cioè ci vuole una certa capacità analitica per poterlo capire e interpretare conica descrizione ed analisi e comunque richiede qualche aggiustamento qualche integrazione quando se si rifarà una nuova edizione io penso che sia utile farla non immediatamente perché poi questi sono dati che richiedono sì un aggiornamento ma non annuale però qualche integrazione però di fatto se dovessi dire che è un rapporto che sta in piedi da solo sta certamente in piedi da solo vado avanti e quindi sulla prossima edizione e vorrei parlare un pochino degli utilizzatori nella relazione di apertura ritornando ad alleva deve crescere la capacità dei cittadini imprese istituzioni di utilizzare l'informazione statistica soprattutto nell'ambito dei contesti di decisione e di valutazione concreti delle attività lavorative e della vita quotidiana lo sviluppo di questa capacità è il principale antidoto alla deriva della post verità e delle fake news di nuovo siamo sui grandi temi sulle grandi sfide e allora io vi porterei con una piccola esperienza visto che mi occupo di queste cose ma io vivo nei castelli romani e vivo anche un po' la politica la cultura la statistica nei castelli romani questi sono i castelli romani mi pare che molti di noi siamo in quanto insomma la parte sud di Roma che va a Giampino Velletri eccetera ecco nei castelli romani la statistica pubblica è il cavallo non beve c'è un paradosso io parlo a livello di amministrazioni locali di quelle entità che dovrebbero essere i primi destinatari di queste statistiche che veramente sono in una situazione che è veramente inaccettabile cioè da una parte noi abbiamo un'istat a cui io faccio sempre i miei complimenti ma veramente sinceri anche con qualche conoscenza dall'esterno un pochino anche dall'interno che produce una quantità di dati e quindi di analisi di lezioni che sono immediate e dirette come queste che diceva Andrea e dall'altra non c'è proprio capacità volontà una serie di motivi che consenta almeno questo cavallo se proprio non deve bere tutto quanto ma utilizzare questo patrimonio di conoscenze ci sono mille motivazioni per tutto questo però però è una situazione secondo me insomma inaccettabile e quando la leva parla l'istat che dovrebbe essere il data steward no? però ma se tu steward se entri in aereo e dici guarda mi si metta seduto lì tu ti metti seduto lì ma se quello non entra in aereo dove lo fai mettere seduto? purtroppo in questa realtà siamo messi così non è sempre così ci sono degli esempi di città di aree metropolitane di regioni eccellenti che dimostrano che la statistica può essere veramente utilizzata dalla società dai decisori da tutti i quanti però abbiamo questa situazione estremamente variegata proprio dal bianco al nero la statistica come la bussola no? non so se voi sappiate o meno ma noi privilegiati i relatori ieri abbiamo ricevuto un regalo il regalo è questo qua si apre e c'è la bussola quindi a leva ci ha detto ragazzi la statistica è la bussola però siamo attenti perché che è successo? ieri sera sono tornato a casa e stavo mostrando ai miei figli allora sto nord a un certo punto stava lì a un certo punto stava lì non si capiva mai dove stava sto nord perché? perché la bussola l'hanno messa in una scatola metallica e questa scatola metallica fa perdere la bussola la bussola tant'è che per vedere veramente dove è il nord bisogna estrarla quindi i dati bisogna saperli utilizzare se quindi tu hai la bussola ma non sai utilizzarla addirittura la metti nel posto sbagliato non ti dice niente veramente non si capisce dove stia questo nord quindi vado a concludere noi siamo e questa è una considerazione se volete culturale anche politica siamo in un tempo in cui c'è un tempo di semplificazione rispetto alla necessità di comprendere e gestire la complessità di delegittimazione di chi detiene le competenze mi sembra che questo purtroppo lo osserviamo quotidianamente di prevalenza dello stomaco sul cervello a questo punto gli statistici dovrebbero diventare come i benedettini durante il medioevo cioè essere coloro che comunque usando il cervello ma anche le mani ora et labora non nella torre d'Avoria ma comunque conservando e sviluppando le conoscenze tutto quello che serve per il cervello per mandare avanti la nostra società in questo momento dovranno probabilmente fare uno sforzo di più perché il contesto certamente non aiuta grazie questa me la riprendo perché buonasera devo stare in piedi allora in questo intervento parlerò un po' dei contenuti che ho trovato che stanno sotto il grande cappello di quello che chiamiamo conoscenza società della conoscenza economia della conoscenza ma vorrei portare anche un paio di esperienze che sono nella mia regione sempre su questi argomenti perché la regione Friuli-Nezia-Giulia di cui io faccio parte come ufficio nell'ambito dell'ufficio di statistica quindi come ente system è un po' un'apripista su alcune questioni e da molti anni pone particolare attenzione appunto a tutta questa grande quantità di ambiti che sta diciamo sotto sotto questo cappello economia della conoscenza in realtà è il nome di un gruppo di lavoro che sta all'interno del CISIS di cui appunto fa parte la regione insieme all'ISTAT all'interno di un accordo quadro e tutta una serie di flusso diciamo di passi istituzionali che ha portato a una collaborazione più stretta fra enti al fine di collaborare promuovere metodologie e un miglioramento nelle in alcune specifiche rilevazioni questa e alcune delle prossime slide sono diciamo per gli atti della conferenza non mi soffermo troppo c'è un protocollo di intesa non ancora perfezionato ma si vuole iniziare a tentare una collaborazione più stretta e poi eventualmente estenderla a tutte le regioni come una buona pratica queste sono diciamo le azioni che sono in corso ma direi che si può andare avanti queste sono le rilevazioni allora sono un gruppo di rilevazioni sono un po' un nucleo di tanti ragionamenti che stiamo facendo oggi quindi ci sono la ricerca e sviluppo nelle seduzioni pubbliche e l'ICT nelle pubbliche amministrazioni rilevazioni per le quali le pubbliche amministrazioni sono anche rispondenti e quindi coinvolgono molti enti anche molti territori in tutta Italia mentre invece per la rilevazione sulla ricerca e sviluppo nelle imprese e l'innovazione nelle imprese il coinvolgimento degli enti territoriali avviene diciamo a geometria variabile c'è chi interviene c'è chi è operativo c'è chi invece sta aspettando di vedere se gli conviene se ce la può fare con le proprie risorse umane e così via la regione sta collaborando insieme all'ISTAT sono andata indietro scusate ad esempio nell'ambito della innovazione da una parte come ufficio statistica territoriale dobbiamo promuovere le azioni di sollecito il contatto con le imprese perché chiaramente le imprese sul territorio sono più è più facile che rispondano ad un ente territoriale rispetto ad un'istituzione nazionale dall'altro lato l'ISTAT ci garantisce un sovracampionamento per avere delle stime più dettagliate nell'ambito della rivelazione di ricerca e sviluppo il ruolo degli enti locali va dalla validazione della lista di partenza all'operatività nel sollecito delle imprese rispondenti e poi anche la revisione e il controllo dei risultati detto questo in realtà vorrei andare più diciamo sui contenuti ho detto che la regione è interessata da molto tempo io sono da più di dieci anni nell'ufficio di statistica già da quando sono arrivata l'interesse nei confronti di questo tipo di dati qui che vedete è sempre stato molto alto perché è una regione che è piccolina abbiamo 1.200.000 abitanti ed è anziana però ha degli indicatori di una certa dinamicità di una certa freschezza tra cui allora conoscerete immagino tutti i presenti il Regional Innovation Scoreboard che è costruito dalla comunità europea a base con una base di dati molto vasta di varia natura che sono la ricerca e sviluppo l'innovazione che abbiamo visto prima ma anche i brevetti su cui la nostra regione è la prima in Italia come diciamo intensità brevettuale oppure l'istruzione delle persone è costruito anche con dimensioni che riguardano l'esportazione di prodotti tecnologici sono tante dimensioni e queste dimensioni messe assieme vedono il Friuli Venezia Giulia come la prima regione italiana per innovazione in realtà le regioni più innovative sono tutte al di fuori dell'Italia sono nei paesi nordici sono nei paesi scandinavi la Svizzera però diciamo questo è un primato che volevo portare abbiamo anche investimenti in ricerca e sviluppo sul PIL che sono superiori a quelli italiani la regione con la più elevata fra le regioni con la più elevata incidenza di start up innovative quelle iscritte all'apposito registro delle camere di commercio 4 incubatori certificati soltanto la Lombardia che è una regione molto più grossa ne ha di più inoltre tassi di innovazione del sistema produttivo superiori sia a quello italiano che a quello del nord-est altri indicatori siamo una regione esportatrice sportiamo questo valore del 43,8% di export manifatturiero sul PIL fra i più alti tra le regioni italiane e anche attività di ricerca e sviluppo delle imprese utilizzando infrastrutture di ricerca e altri servizi è molto alto e sono indicatori che ci servono perché come regione allora innanzitutto sono in molti di questi tutti o quasi o insieme a molti altri sono definiti dell'accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi europei per una regione come la nostra gli interventi sul territorio in ambito di attività produttive e di formazione quindi POR-FESER POR-FSE sono fondi europei e coprono la maggior parte delle cose che la regione fa sul territorio in questi ambiti quindi il fatto che la strategia europea sia orientata a quella che si chiama società della conoscenza crescita inclusiva implica che questi dati per noi sono fondamentali tant'è vero che vengono utilizzati innanzitutto nei nostri documenti di programmazione e pianificazione anche strategica e poi anche nella S3 la strategia di specializzazione intelligente regionale sono indicatori di impatto e di contesto una cosa sull'istruzione perché ho visto ci sono altri un altro dato che effettivamente non conoscevo e conosciuto nel rapporto è che il Friuli Venezia Giulia ha i valori tra i più alti in Italia per la percentuale di imprese formatrici e questo onestamente non l'avevo visto in altre fonti è anche una regione già conosciuta per avere buoni dati dalle rilevazioni in Valsi e Pisa sulle competenze dei ragazzi su competenze scolastiche allora queste le nostre posizioni in classifica per popolazione con diploma secondario superiore siamo sesti però attenzione siamo in una regione più anziana delle altre e quindi chiaramente l'età della popolazione pesa quinti per popolazione laureata per lo stesso motivo però quarti per competenze alfabetiche numeriche degli studenti considerato nel complesso dopo se si va a considerare anche singoli aspetti di queste macro categorie si possono vedere ad esempio un alto valore degli studi tecnici che formano evidentemente molto bene i ragazzi il problema è che l'Italia rispetto al contesto europeo invece come abbiamo già anticipato non si colloca molto bene in parte per un ritardo storico nell'istruzione degli adulti dovuto a sua volta da una carenza storica di istruzione tecnica superiore l'istruzione tecnica anche terziaria che diciamo che fa sì che i laureati in Italia siano di meno perché non avevano un canale sostanzialmente verso cui dirigere la propria formazione su questo devo dire in regione stiamo facendo qualcosa già da qualche anno perché abbiamo la possibilità come autonomia anche di gestire istruzione tecnica superiore io non posso parlare delle altre regioni però non c'è non c'è niente ci sono anzi delle realtà che sembrano anche molto valide anche perché vengono periodicamente ritarate sulle esigenze su quello che sembra essere più richiesto produttivo invece proprio la spesa per studente terziario ho visto dal rapporto mi pare che sia forse la più bassa d'Europa siamo ma quasi siamo siamo bassi ma credo che non siano da enfatizzare l'oppo perché sia per ragione della strutturale c'è una questione di costo unitario cioè se i docenti di ruolo di prima fascia vanno in pensione adesso è vero che stai perdendo probabilmente un docente con grande esperienza ma che c'è un costo del lavoro di 150 mila euro l'anno e stai prendendo un ricercatore che ti costa 40 mila euro l'anno tu stai abbassando il costo allora andando a vedere l'evoluzione del costo delle infrastrutture cioè della spesa per infrastrutture anche negli anni della crisi da noi ha mantenuto quindi la dotazione infrastrutturale del sistema universitario non sembra avere sofferto di definanziamento è diminuita la parte stipendi quindi diciamo che colpa dei baby boomers che vanno appunto in pensione pensionamento di personale con stipendi più elevati sostituito da personale con stipendi più bassi però diciamo non è che manchino i docenti universitari certo mancano i ricercatori manca il coltivare manca il dare prospettive in termini di ricercatori del sistema universitario lì siamo sottodimensionati rispetto alla dimensione del paese però con l'indicatore di spesa non è complicato da leggere insomma forse meno complicato l'abbandono scolastico che invece per fortuna sta migliorando chiedo allora concludo abbastanza velocemente gli abbandoni scolastici sono in diminuzione però la percentuale è comunque piuttosto alta ed è appunto anche questo è un dato fra i peggiori in Europa mi chiedo queste famiglie questi ragazzi pensano veramente che non serva studiare c'è veramente questa vulgata per cui le competenze non sono valorizzate da un sessuto produttivo che è fatto di piccole aziende poco tecnologiche in realtà anche io ho letto con molto interesse il capitolo sull'istruzione nelle PMI dove c'è scritto che l'istruzione si autovalorizza un imprenditore istruito assume gente istruita e aumenta la probabilità di sopravvivenza di valore aggiunto della propria impresa quando vedo questi dati comunque sull'istruzione ci si chiede è tanto importante l'istruzione a me fa pensare a quello che era l'Italia l'eccellenza italiana nel nel 600 e nel 700 che era nella musica abbiamo esportato musicisti e cultura musicale in tutta Europa perché nel 600 nel 600 sono nati i conservatori ma i conservatori erano gli orfanotrofi i ragazzini senza famiglia che avrebbero che non avevano arte né parte venivano accolti nei conservatori gli veniva insegnato un mestiere non venivano lasciati indietro in questa maniera si è creato come un terreno fertile per poi avere un'eccellenza che mettesse radici e non saprei dire quanti piccoli violinisti servono per avere Vivaldi o quanti ragazzi che fanno coding servirebbero per avere Bill Gates però penso che il nostro paese non possa permettersi di lasciare indietro queste persone e che il sistema dell'istruzione debba essere più inclusivo e un'ultima cosa sono tre slide che scorro velocemente perché volevo presentare quest'ulteriore esperienza della nostra regione in cui siamo partner di Area Science Park che è il principale parco tecnologico della regione insieme all'Università di Trieste è un progetto che vuole profilare le imprese del Friuli Venezia Giulia in base alla loro propensione all'innovazione creare un database e uno strumento di business intelligence utile per fasi di programmazione monitoraggio e controllo dell'attività di innovazione a favore di portatori di interessi quali gli altri parchi le camere di commercio principali le associazioni di categoria e cluster distretti del Friuli Venezia Giulia è interessante dal punto di vista metodologico perché cerca di fare il matching di diverse fonti di dati dai bilanci di esercizio le fonti delle finanziamenti UE brevetti e marchi e così via e dall'altro lato usa quelle rilevazioni di cui ho parlato all'inizio ricerca e sviluppo innovazione insieme a quelle dell'export per creare un indicatore di innovazione e internazionalizzazione delle imprese si rivolge alle imprese di capitale perché a partire dai dati delle sole imprese che hanno risposto alla rilevazione sull'innovazione che è campionaria ma di cui conosciamo l'attività innovativa viene calcolato invece un modello di classificazione che distingue tra innovatori e non innovatori e poi in base ai dati di bilancio che in principio sono disponibili invece per tutte le società di capitale e viene poi creato un modello che classifica anche chi non è stato intervistato nella CIS in base a questa propensione all'innovazione con un metodo di supervised learning una stima su un training set e poi una valutazione su un validation set indipendente questo è un processo ancora in corso i ricercatori stanno lavorando devono ancora definire diciamo diverse questioni metodologiche come quali variabili utilizzare che tipo di modello farlo predittivo classificatorio se poi volete approfondire alcune cose qua c'è il riferimento mio e del mio ufficio grazie buon pomeriggio a tutti sono Giovanni Finocchietti del Cimea a differenza dei miei colleghi non ho preparato una presentazione quindi parlerò con un approccio particolare che rivendico sono un utilizzatore tra le attività che il Cimea svolge il Cimea è il centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche e il centro italiano di una rete europea e internazionale di centri che fanno informazione e ricerca su temi legati all'istruzione superiore in particolare alla dimensione internazionale dell'istruzione superiore fra questi temi c'è la ricerca della quale io mi occupo come Andrea ha già segnalato sono il responsabile per l'Italia di un'indagine europea che si chiama Eurostudent che insieme a Euridice e Eurostat è utilizzata dai paesi che aderiscono al processo di Bologna e allo spazio europeo dell'istruzione superiore come fonte di dati per la definizione delle politiche che poi i paesi dovrebbero realizzare sulla base dell'accordo strategico che il processo di Bologna prevede l'indagine Eurostudent è una indagine centrata sulle condizioni di vita e di studio degli studenti universitari nei paesi dello spazio europeo dell'istruzione superiore l'approccio è quindi un po' diverso da quello con cui vengono elaborati i rapporti come quello sulla conoscenza che stiamo discutendo adesso perché nell'indagine Eurostudent l'unità di analisi è il singolo studente che viene intervistato ci sono alcune decine di migliaia di studenti che sono intervistati in tutta Europa sulla base di un questionario condiviso e poi il nostro compito è quello di produrre degli indicatori secondo una metodologia condivisa e quindi è possibile mettere a confronto alcuni aspetti delle condizioni della condizione studentesca a partire da questi indicatori calcolati direttamente sulla base delle esperienze degli studenti perché è utile veniamo al punto dopo aver fatto la presentazione del lavoro perché per chi come me fa questo lavoro è utile un rapporto come il rapporto sulla conoscenza è utile perché è una infinita e inesauribile fonte di dati e di stimoli e spiego queste due cose quello che si riferisce ai dati rimanda a uno degli aspetti che è già stato messo in evidenza e cioè che ogni dato presentato in questo rapporto è posto su uno scenario di confronto internazionale questo sembra forse scontato ma per chi fa ricerca in ambito internazionale come per me ne parlavamo prima con la collega vuol dire alcune decine forse alcune centinaia di ore di lavoro risparmiato perché il grande merito è quello di aver raccolto le grandi fonti di dati a livello europeo e a livello internazionale e aver già piazzato questo dato italiano sullo scenario e il secondo grande valore aggiunto di questo rapporto è il fatto che non si limita appunto a descrivere il dato ma prova anche a interpretarlo e a dare quindi addirittura qualche indicazione di possibili politiche che dovrebbero essere fatte in questo quindi l'ambizione è anche più come diceva prima è qualcosa di più dell'essere solo frati certosini e anche essere poi invece cavalieri che escono dai conventi e vanno per il mondo a far qualcosa di più a cercare di organizzare il mondo l'altro terzo grande valore aggiunto secondo me è vero c'è un grande passo in avanti perché c'è una lettura trasversale alle grandi tematiche storiche di interesse dell'Istat per cui c'è l'analisi per macrotemi ma io come utilizzatore ho trovato utilissimi i quadri tematici che poi sono delle guide alla lettura trasversale lo slalom fra le schede del rapporto io me lo sono letto prima da solo e poi ho scoperto che c'erano queste schede sono stato molto orgoglioso di aver trovato tutto quello che riguardava l'istruzione superiore dentro il rapporto non c'era nulla che mi fosse sfuggito il che però è un merito non mio ma di chi ha curato il rapporto che da questo punto di vista è riuscito a comunicare bene come utilizzatore ho trovato conferma di tantissime cose però ci sono due pillole due chicche diciamo che mi piace che mi piacerebbe sottolineare la prima riguarda un tema è solo accennato dentro il rapporto e quindi è anche un po' una maniera di segnalare una possibile pista di approfondimento per le auspicabili future edizioni dell'indagine rimanda al tema della mobilità internazionale dei laureati e dei ricercatori volgarizzata nei media italiani come fuga dei cervelli è la prima volta che trovo un dato e l'ho trovato in questo rapporto su qual è la percentuale di laureati di tra virgolette cervelli che ritornano era un dato che ripeto io non ho mai trovato prima è indicato come una quota di individui che si riscrivono all'anagrafe nazionale disiscrivendosi dall'aire e segnala che la quota di laureati in questo contingente di rientrati è altissima è molto più alta di quelli che escono il che vuol dire che nella mobilità circolare dei laureati e dei ricercatori alla fine non è affatto vero che c'è fuga ma c'è appunto una mobilità internazionale e questi molti sono quasi il 40% di quelli che rientrano quelli che hanno un titolo di laurea e un'esperienza all'estero è un beneficio altro che fuga dei cervelli insomma lo sottolineo anche come cittadino che non ne può più di leggere queste banalizzazioni sui giornali dei soloni che scrivono gli editoriali in prima pagina un tanto a riga e che sanno parlare sempre solo il secondo punto il secondo punto che ho trovato molto interessante e questa piccola chicca so che i curatori del rapporto ci tengono molto a questa indagine sui livelli di istruzione degli imprenditori e dei dipendenti nelle piccole imprese e abbiamo visto è abbastanza chiaro anche se non è facile da capire immediatamente si deve leggere magari due volte ma poi si capisce qual è il rapporto che lega il crescere del livello di istruzione degli imprenditori con quello dei dipendenti e poi quali sono soprattutto i benefici di questo cioè qual è il processo virtuoso che si innesca porto in questo la mia esperienza come tanti fra noi anche il Cimea sopravvive facendo o partecipando a progetti europei nella mia esperienza negli ultimi due anni mi sono dovuto occupare massicciamente di progetti europei nel programma Erasmus Plus che hanno a che fare con l'innovazione e in particolare un progetto che riguarda la manifattura additiva la formazione del personale che nelle imprese si occupa di manifattura additiva cioè quel processo che usa la stampa 3D per intenderci in questo rapporto si analizza diciamo l'effetto virtuoso in cui il crescere del livello di istruzione degli imprenditori ha un effetto sulla dinamica del livello di istruzione dei dipendenti parlando con gli esperti di questo settore manifattura additiva in Italia loro mi parlavano di un collo di bottiglia dovuto al fatto che oggi molte imprese che potrebbero fare innovazione di processo e di prodotti utilizzando la manifattura additiva sono invece bloccati dalla resistenza degli imprenditori e dei dirigenti a far entrare in azienda ricercatori tecnici giovani che hanno un livello di istruzione molto superiore a loro e quindi diciamo se c'è un effetto positivo forse c'è anche un effetto negativo al contrario non so come questo possa essere empiricamente misurato però diciamo che il negativo è una conferma di questa dinamica che è stata e mi è piaciuta molto concludo bello bellissimo è stato estremamente interessante leggerlo ma dobbiamo trovare qualche difetto mettiamolo in positivo c'è forse per quanto riguarda l'istruzione superiore un campo nuovo che potrebbe essere aperto ci sono base di dati che non sono state ancora utilizzate in questo rapporto in particolare tutti i dati che il ministero dell'università raccoglie da vent'anni su le politiche del diritto allo studio universitario e più in generale del welfare studentesco e i dati sulle carriere degli studenti attraverso l'anagrafe nazionale degli studenti raccomandazione troviamo la maniera di utilizzare questi dati nel rapporto in particolare per quanto riguarda la base di dati sugli interventi del diritto allo studio in più parti si parla di come gli interventi a supporto non del sistema dello sviluppo del sistema ma degli individui delle persone in questo caso degli studenti possono aiutare l'efficienza e l'efficacia diciamo così quindi aumentare il numero dei laureati dei laureati che si laureano in tempo e con una buona preparazione quindi questo è un tassello che forse potrebbe essere aggiunto si dice che negli altri paesi si fa molto e in Italia in effetti confermo si fa piuttosto poco e una cosa che mi piacerebbe riuscire a capire è se e forse i dati dell'anagrafia nazionale degli studenti possono aiutarci in questo se si riesce a metterci le mani sopra diciamo sperando che nessuno ascolti questa espressione a vedere se effettivamente gli studenti che sono dentro il sistema del diritto allo studio e quindi sono supportati in qualche modo hanno carriere migliori degli altri oppure no e questo ci direbbe molto sull'efficacia dell'investimento in welfare studentesco questo è quanto grazie questo è morto completamente è un'altra cartella è un'altra cartella devi salire di uno pomeriggio no è la stessa è pomeriggio aula della formazione ci scelta ecco potrebbero essere dannosi perché io sto rappresentando qui il direttore Lampis il quale è malato quindi potrebbe effettivamente avere potrei 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 portare il contagio io in effetti non vista l'ora grazie grazie moltissime vista l'ora e con tutto considerato non non andrò passo per passo per le le varie fettine di rapporto che avevo predisposto ma con Andrea è stata un'avventura molto divertente perché credo che Andrea avesse previsto la lettura dei libri credo credo uno spazio diciamo di argomento legato alle arti e alle attività culturali molto confinato ma a mano a mano che si andava avanti questo tema è riuscito a conquistarsi un suo spazio e a parte degli scherzi Antonio Lampis che è il direttore generale dei musei con il quale ho parlato spesso di questo rapporto aveva fatto una serie di osservazioni io in parte farò riferimento alle sue in parte alle mie per dire che questo è un altro aspetto in cui l'integrazione dei nostri dati e dei temi quindi la visione complessiva degli argomenti che emergono da questo rapporto effettivamente consente di gettare una luce molto diversa molto nuova su alcuni aspetti che o sono del tutto sconosciuti o non sono stati spesso sono sempre trattati in maniera molto compartimentalizzata quindi non dialogano gli uni con gli altri come succede per esempio con i temi istruzione e cultura perché fanno riferimento ad amministrazioni diverse quindi è un problema ho indovinato il primo colpo si vede che sono l'ultima allora noi abbiamo cercato di rappresentare il contributo alla conoscenza della cultura intesa in senso non antropologico in senso molto tecnico cioè legato alle arti alle attività alle imprese culturali all'occupazione culturale alle cose ai consumi che le persone e alle pratiche che le persone svolgono nel loro generalmente tempo libero come una dimensione importante della conoscenza abbiamo raccolto dati sulla produzione creativa ecco qui per esempio noi abbiamo cercato di rivolgere l'attenzione ai contesti liberi non legati a processi professionalizzanti la produzione creativa che peraltro è studiata poco occasionalmente tanto in Italia quanto a livello di Unione Europea per chi non è del mestiere diciamo io ricordo che le statistiche culturali a livello di Eurostat non sono oggetto di rilevazioni di prima mano lavoriamo sempre su dati usati di seconda mano dessunti da imprese da indagini fatte con altra finalità quindi ci dobbiamo sempre accontentare di riciclare cose che sono state pensate in un altro modo e questo è un tema che emerge qui e là però qui mi rifaccio un po' all'esempio dei conservatori qui per esempio noi abbiamo ritenuto interessante andare a vedere la pratica libera sciolta non finalizzata all'acquisizione strutturata di competenze professionali quindi il piacere di fare cose creative nel tempo libero senza alcuna finalità di tipo professionale che abbiamo immaginato fosse un elemento significativo per la produzione di conoscenza io adesso non vi racconto i dati vi dico come abbiamo costruito questo ragionamento quindi prima cosa le condizioni in cui per età e per condizioni anche di livello di istruzione diverso si esprime o non si esprime questa pratica creativa sono stata intelligente una volta ma non due poi abbiamo invece guardato i prodotti culturali e creativi anche qui dobbiamo fare un pochino le nozze con i fichi secchi per cui Comstat raccoglie i movimenti commerciali dentro l'Unione Europea e tra i diversi stati dell'Unione Europea su prodotti che vengono classificati culturali secondo la classificazione Eurostat certo è molto parziale tenete conto che ancora i film vengono registrati per chili diciamo siamo al pre-digitale completamente quindi diciamo mi dai 20 chili di fellini ecco una cosa di questo genere è un po' miserabile però dà un'indicazione e per esempio dà un'indicazione di un paese l'Italia che è molto forte nel commercio di prodotti di alto artigianato per esempio del tessile artistico di qualità ovviamente di beni di tipo antiquario ma che è latita quasi completamente sul lato della produzione digitale creativa quindi anche questi dati contribuiscono a guardare pure dietro alle certe nostre rappresentazioni l'occupazione culturale è una sfida sfida io la posso dire ecco è una sfida molto alla nostra capacità di rilevazione che cosa è un'occupazione culturale è un'occupazione che si svolge dentro un'impresa culturale se tu fai però il pulitore del museo sì perché se non ci fosse il museo tu non lavoreresti dall'altra parte ci sono occupazioni che sono culturali fuori dal settore culturale la linea di confine è tremenda è molto difficile soprattutto perché dobbiamo lavorare sempre su dati che hanno raccolto altri attraverso l'indagine sulle forze di lavoro e quindi non abbiamo il bene di chiedere alla gente ma tu che lavoro fai e di orientarli per capire se c'è una componente creativa o meno così noi abbiamo il famoso caso dei fotografi di matrimoni che da una parte dovremmo considerare culturali dall'altra non lo dovremmo fare insomma non vi sto a tediare però è un interessante terreno di tanto è vero che pur usando classificazioni e fonti istat simbola ogni anno da un numero di occupati che è circa tre volte tanto quello che risulta a noi e non è che sbaglino è che semplicemente fanno passare il confine con un giro più largo che è perfettamente motivato però insomma è un tema di una certa rilevanza questo è una cosa che abbiamo cercato di vedere anche tra diverse regioni si risente molto del fatto che diciamo ci sono alcuni un paio di modelli quello laziale e quello lombardo che sono fortemente polarizzati sulle grandi città quello toscano al contrario che è invece una forma alternativa comunque non c'è tempo di parlarne abbastanza abbiamo guardato anche quello che si chiamano attività culturali che sono le attività non sono quelle passive scusate il gioco di parole cioè i cosiddetti consumi culturali non l'esercizio della propria creatività ma il fatto di andare a vedere un film andare a teatro e così via noi siamo molto generosi in istat perché noi consideriamo attivi culturalmente quelli che in un anno hanno fatto tre cose ma non che hanno fatto tutte le settimane tre cose no che hanno letto almeno un libro l'anno sono andati almeno tre volte al cinema cioè ci accontentiamo i nostri attivi culturalmente sono non troppo attivi in verità ecco sì ecco però anche qui anche qui in prospettiva noi dobbiamo riconoscere che tranne per alcune rilevazioni occasionali che si chiamano i cittadini a tempo libero anche qui in casa nostra noi utilizziamo dati che vengono raccolti per un'altra finalità che è quella di aspetti della vita quotidiana nell'ambito di una lunghissima batteria di quesiti che è finalizzata a un altro discorso quindi anche qui forse noi dobbiamo ricavare qualche indicazione che potremmo cercare di approfittare di integrare le fonti di incrociare più sistemi di riferimento per ottenere un quadro meno generico perché dire andare al cinema non ci dice quanti film hai visto perché li potresti aver visto in milioni di modi e ci sono altri mezzi come per esempio quelli della spesa delle famiglie che ci permettono di vedere una fettina di questo argomento però insomma stiamo approssimandoci sì penso di sì già solo quello che hai menzionato ci sta dentro l'indagine forze di lavoro abbiamo usato AVQ abbiamo usato le indagini SBS abbiamo usato i dati sul commercio con l'estero è un bel lavoro questo è un lavoro diciamo che dal punto di vista di provare a tirare fuori a cavare le informazioni culturali noi ne abbiamo tantissime sparpagliate ovunque il problema è che ogni tanto quando tu vuoi arrivare vicino al significato un'indagine che è fatta con un'altra finalità strutturale rivela i suoi limiti per cui le definizioni sono molto approssimative e generiche e noi siamo secondo me uno dei paesi statisticamente più diligenti rispetto al quadro europeo voi sapete che noi non siamo in grado di dire quanti musei ci sono in Europa perché il gruppo di statistiche culturali sui musei EGMUS fa una tavola sinottica ogni paese dei 28 usa un criterio diverso per definire che cos'è un museo in questa tavola che è fatta con 28 righe ci sono 503 note non ho detto balle andatelo a vedere 503 note perché ognuno dice guardate la Francia si ne dice 44 però loro dotano solo il criterio di quelli che sono riconosciuti in Museo de France l'Inghilterra al contrario sono quelli che adediscono alla charter qui e là l'Italia che fa ogni anno denuncia 435 439 musei statali che sono gli unici che vengono rilevati ogni anno e sono quelli che fanno dire ai soloni che l'Uvr da solo ha più visitatori di tutti i musei italiani noi ne abbiamo 5.000 e l'Istat occasionalmente insieme al Ministero dei Beni Culturali e alle regioni fa anche il censimento di tutti quegli altri però capite che se in Europa non siamo in grado di dire quanti sono i musei figuriamoci se possiamo parlare di attività di partecipazione culturale tant'è vero che sotto sotto nascosto molto bene in maniera molto molto criptica Eurostat usa i dati di Eurobarometro che insomma detto in casa Istat vuol dire praticamente dire che l'arcivescovo ha usato esattamente si serve direttamente dal diavolo che altro vi devo dire niente queste sono il consumo qui invece abbiamo fatto un lavoro che ha messo insieme i dati anche di web scraping sui siti UNESCO e il numero di ricerche su Wikipedia relativi a siti UNESCO il numero dei musei e i loro visitatori quindi abbiamo provato a vedere anche come si relazionano domande offerte dove questo è possibile abbiamo studiato il caso straordinariamente positivo delle biblioteche italiane le biblioteche di pubblica lettura che sono una realtà di rete strutturata l'abbiamo sviluppato questo argomento anche nel rapporto annuale questi sono invece musei e siti archeologici e appunto come vi dicevo le biblioteche credo di aver terminato e termino veramente dicendo che da una parte è stato un esercizio che ci ha veramente consentito di dire che sparsi dovunque c'erano dati sulla cultura che era ora di cominciare a tirare fuori però questo è solo un pezzetto del discorso il discorso è complessivo ed è legato al fatto di un capitale umano di conoscenze di competenze di memorie di pezzi della propria tradizione e della propria creatività che si innestano in maniera più o meno facile più o meno diretta con percorsi che sono anche legati alla scuola e all'istruzione tanto è vero che noi abbiamo i dati che dimostrano che in Italia il consumo culturale è sostenuto solo fino a che la scuola lo sostiene quando viene meno il supporto della scuola e dell'università quando viene meno sull'esempio dei genitori dei genitori che non leggono non leggono i figli dei genitori che leggono leggono quando viene meno quindi questo sistema di puntello purtroppo il consumo la pratica la disinvoltura la padronanza del patrimonio culturale in Italia cade che ci porta a dire che per ora la cultura in Italia è una specie di malattia dell'infanzia poi si guarisce non si mangia però ci si diverte un sacco grazie 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 per voce dal pubblico abbiamo ovviamente sporato i tempi ma grazie grazie